Un saluto da Dottor Palmas e da Dimitro, colui che segue quella che è la linea di produzione interna delle arcate più complesse al mondo di bionica della bocca, stiamo parlando di ricostruttiva completa della dentatura e quelle che ti faccio vedere oggi sono due situazioni molto diverse tra loro che vengono risolte con soluzioni diverse. Qua abbiamo un'arcata completamente artificiale linea superior quindi denti in zirconio nella parte superiore e linea premium denti in composito nella parte inferiore quindi zirconio un materiale rigido, composito un materiale elastico. Stiamo parlando di arcate che sono completamente prive di sensibilità. Se io poggio un gelato su questi denti non si sente il caldo o il freddo. Stiamo parlando di bocche dove se io vado a mettere qualcosa tra i denti come per esempio io vado a mettere un legnetto ma pensiamo a del cibo, quando mettiamo del cibo tra i denti il cervello non ha un feedback sensoriale di quanto forte sta masticando. Gli uniche zone di feedback sensoriali che rimangono sono le articolazioni. Questo è un problema perché quando noi parliamo di pazienti che hanno perduto completamente la bocca quello che succede è che se il paziente non va a cambiare lo stile di vita lo stile alimentare e quindi ripassa per l'educazione alimentare c'è alta probabilità di rompere i denti artificiali per il motivo che manca la sensibilità. La bravura del tecnico sta proprio qua. La bravura del tecnico sta nel andare a selezionare materiali che siano diciamo privi di rischi per il paziente ma soprattutto andare poi a simulare quelli che sono i movimenti non solo di apertura, di chiusura ma anche di lateralità della bocca del paziente. Per questo vengono utilizzati, Dumitru utilizza questi articolatori con dei parametri che vengono settati qua sulla base dei rilevamenti del protesista sulla bocca del paziente e ci permettono di andare a simulare quelli che sono i contatti di occlusione, di disclusione, di lateralità e non solamente i movimenti di apertura e chiusura della bocca. Questo è uno dei primi capisaldi e fai attenzione perché all'estero non tutte le cliniche utilizzano questa tipologia di strumenti per andare a simulare e emulare quella che è il movimento naturale della bocca. Ci sono articolatori e articolatori e ci sono soprattutto occlusori. Occlusori sono delle forchette ti faccio vedere per esempio qua. Questo è un occlusore. L'occlusore è uno strumento che fa solamente questo tipo di apertura, un'apertura e chiusura della dentatura. Questo va bene, si può utilizzare quando dobbiamo fare piccoli lavori. Qua si tratta semplicemente, come vedi, stiamo andando a realizzare solamente quattro denti. Quindi quando noi andiamo a realizzare piccoli lavori è possibile andare a utilizzare degli strumenti semplificati. Ma quando noi andiamo a realizzare arcate complete, impiegare strumenti semplificati come quelli può portare grossi problemi a livello di articolazione e soprattutto di rotture dei materiali. Dima ha fatto un'articolazione sui parametri più naturali possibili e qua invece ti faccio vedere un'altra tipologia di arcata che è stata fatta. Questa è un'arcata linea premium con una caratteristica che questi sono denti dell'arcata inferiore completamente naturali. I denti naturali ammortizzano, hanno sensibilità e soprattutto sono, come dire, la nostra sicurezza, la nostra protezione nel tempo. Sopra abbiamo realizzato una struttura interna in titanio che regge i denti che saranno poi in composito. Un materiale più elastico che ci permette di non danneggiare i denti inferiori e soprattutto ci permette di metterci al riparo da possibili rischi di rotture. Questa sicurezza è data dal fatto che sono materiali molto elastici. Andare a selezionare i tipi di materiali in base a quella che è la tipologia di biomeccanica che ci troviamo davanti è fondamentale perché quando noi andiamo a studiare i materiali da usare nella bocca di quello specifico paziente stiamo decidendo quanto durerà quella arcata nella bocca del paziente. E lì è importante avere non solamente strumenti ma anche la conoscenza, le mani e il cuore, come dico sempre. Un saluto da Dottor Palmas, da Dima, qua dal Dipartimento di Bionica e Ricostruttiva della Bocca in Moldavia. Ciao!